113 opere provenienti da 32 nazioni e 5 continenti sono i numeri che svelano l'anima multiculturale della terza edizione del Sonic Scene, il festival internazionale del cinema musicale che si svolgerà a Trani dal 1 al 3 novembre. È un festival che parla di musica e soprattutto vuole favorire un confronto interculturale tra i diversi paesi del mondo e diverse culture, attraverso la musica e attraverso l'arte. A Palazzo Beltrani, dove questa mattina è stata presentata la manifestazione, andranno in scena 18 proiezioni di film e documentari dedicati alle differenti scene musicali dell'era contemporanea o del recente passato. Nella terza edizione abbiamo mantenuto abbastanza in linea il programma con le edizioni precedenti, dando chiaramente novità nei contenuti, nel senso che quest'anno tratteremo di scene musicali di cui non abbiamo mai parlato in passato. In particolare mi soffermerei sui lungometraggi, non potendo chiaramente elencare tutti i film in gara. I lungometraggi che sono sei vedono i temi del tango argentino, con Piazzolla che ha antenati tranensi, la musica elettronica brasiliana, la scena indipendente di Tokyo, la rumba catalana, il post-punk sovietico e il rock finlandese. Nei giorni scorsi il sindaco Amedio Bottaro ha lanciato la terza edizione del Sonic Scene dal tappeto rosso del Festival del Cinema di Roma. Molti forse non pensavano che saremmo cresciuti così tanto, che questa manifestazione, questo festival sarebbe cresciuto così tanto, una scommessa vinta, grazie sicuramente all'impegno dell'assessorato alle culture, in particolare l'assessore Felici di Lernia, ma devo dire che quest'anno soprattutto questa terza edizione è sempre più internazionale, abbraccia questa volta il mondo intero, un processo di internazionalizzazione che evidentemente non sta riguardando soltanto questo festival, ma sta riguardando un po' tutto il movimento che gira intorno alla nostra città. Grazie a tutti.